sei come un bambino gli presentavano dei bambini perché li toccasse ma i discepoli sgridavano coloro che gli presentavano gesù veduto ciò si indignò e disse loro lasciate che i bambini vengano da me non glielo vietate perché il regno di dio e di chi è come loro marco 10 13 14 quando gesù dice che il regno di dio e di chi è come loro significa che dobbiamo assolutamente essere come dei bambini ma cosa significa diventare immaturi dimenticare tutto ciò che abbiamo imparato da adulti ovviamente no all'epoca di gesù i bambini non erano molto considerati ma noi oggi abbiamo la consapevolezza di poter imparare anche da loro quali sono le caratteristiche dei bambini che dobbiamo avere loro sono aperti ricettivi curiosi di tutto e desiderosi di imparare onesti con i loro sentimenti non si vergognano di piangere o di ridere e mostrare entusiasmo riesce a riconoscere che sei vulnerabile che hai bisogno del signore che non sei tuo da avere il controllo sono pronti a perdonare i litigi tra bambini non durano a lungo si perdonano molto facilmente lo fanno anche con gli adulti per poi dedicarsi ad altro tu sai fare altrettanto hanno fiducia se si fidano di qualcuno lo seguirebbero fino in capo al mondo e si fidano completamente è questa la tua attitudine verso il signore prega con me caro padre celeste grazie dell'esempio che ci danno i bambini aiutami ad essere come loro voglio avere più fede nella tua parola e dipendere sempre di più da te nel nome di gesù amen sii benedetto oggi fidati del signore con la fede di un bambino grazie di esistere Emanuele Go